Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha dato l'ok all'EPAESC il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, deliberando all'unanimità dei presenti l'adesione al Patto dei Sindaci con obiettivi di riduzione delle emissioni e contestuale aumento del risparmio energetico al 2030 rispetto al 2020, i cui obiettivi sono inseriti nel Paes approvato nel 2017. Questa adesione permetterà al Comune di poter ottenere un finanziamento regionale di circa 27.000 euro per la revisione del proprio Paes e di richiedere finanziamenti pubblici a valere sulla prossima programmazione europea a partire dal 2021 nell'ambito del risparmio energetico. In sostanza il Comune aveva già approvato il piano per la riduzione del 20% di CO2 e per il raggiungimento del 20% del risparmio energetico entro il 2020, ora prorogato al 2030. La problematica ambientale connessa alle variazioni climatiche ha scritto l'assessore all'ambiente Giuseppe Tuminelli e di assoluta priorità.